Era passata da poco la mezzanotte, quando la terra ha cominciato a tremare nel Potentino. L'epicentro, secondo quanto rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato a 3 chilometri da Anzi, in provincia di Potenza, con una scossa di magnitudo 3.5 ad una profondità di 42 chilometri. Da quanto si apprende, non si sono registrati danni in tutto il territorio, solo tanto spavento che ha interrotto il sonno dei residenti della zona. La scossa è stata avvertita non solo in Basilicata, ma anche in Puglia, con diverse segnalazioni giunte dalla provincia di Bari e Bat, soprattutto da coloro che risiedono ai piani più alti. Ma la Basilicata ha tremato ancora dopo la scossa della scorsa notte. Un nuovo terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato questa mattina a 2 chilometri da Salvitelle, in provincia di Salerno, a ridosso del territorio lucano, ad una profondità di circa 16 chilometri, anche in questo caso nessun danno registrato.